Serie B Eurobet Questa è la mia casa Questo è il mio sogno Questa è la mia famiglia Serie B Eurobet Appassionati In campionati B, campionato lungo, difficile, ogni partita ha le sue storie Secondo me ci può stare, però noi dobbiamo essere bravi a rialzarsi subito E già da sabato dare il massimo in campo per portare a casa qualcosa A proposito di storie, ne è una da raccontare perché a Siena è esordito tra l'altro Se non andiamo errati No, sì, a Siena è esordito l'ultimo di campionato contro l'Albino Leffe Mi piace esordire il mister Conte È stato molto bello perché anche dopo si è coronato con... Siamo saliti in Serie A e è stato anche molto bello Questa per me è una bella esperienza C'è comunque chi tra i tifosi ha espresso un po' di malumore Il timore che qualcosa possa essersi improvvisamente inceppato Da calciatore ai tifosi cosa puoi dire? Ma io posso dire che noi tutte le settimane lavoriamo E diamo il massimo in campo per andare il sabato pronti, preparati E fare tutto il possibile per fare risultato su qualsiasi campo Poi secondo me non c'è nessun intoppo, niente Il calcio si sa come ci sono dei risultati di fila febbene Poi anche perdere due partite Ma secondo me noi saremo bravi e ci rialzeremo molto presto Senti, questo Siena della classifica è importante Mascherato dalla penalizzazione, cosa possiamo dire? Siena è una squadra importante, l'ho sempre stata Quanto scende in B e fa subito risale subito in Serie A È una squadra importante, forte, che è in salute Non hanno problemi Noi dobbiamo essere bravi a avere l'occasione Sfruttarle subito e ogni momento E stare attenti sulle loro ripartenze e tutto Grazie 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 Grazie